Su Job Act l'Italia ha bisogno di un cambiamento, Renzi sembra avere molto consenso nonostante le dimostranze del suo partito, potete dare una mano oppure vi chiamate fuori? Il consenso è quello dei sondaggi, le ultime europee hanno dimostrato che non contano niente i sondaggi, dal punto di vista dell'articolo 18 io le dico che cosa vogliamo fare noi per il lavoro e lo faremo nella legge di stabilità e lo sosterremo nei prossimi due mesi. Renzi vuole abolire l'IRAP per le imprese e creare un reddito di cittadinanza a tempo per rimettere nel mondo del lavoro le persone. Renzi vuole abolire l'articolo 18, dal mio punto di vista è l'ultimo problema di questo paese e rappresenta solo un vantaggio per schiavizzare i ragazzi da parte delle multinazionali. Abbiamo la presidenza del semestre dell'Unione Europea, che fine ha fatto? In tre mesi cosa ha fatto Renzi se non obbedire alla Merkel, nonostante lui abbia una carica più alta della Merkel in questo momento? L'unica risposta che ha saputo dare all'Europa è dire all'Italia togliamo più tutele ai lavoratori, io voglio dare più tutele al figlio del lavoratore che non le ha, che toglierle al padre che le ha. Ma lui sta dando l'idea però di essere in movimento, di un rinnovamento alla quale forse voi avevate in principio dato un'idea. Se qualcuno che ci aveva votato pensava che noi volessimo andarci ad alleare con chi aveva distrutto questo paese, può tornare a votare per loro. Per tutto il resto io mi sento soltanto di dire una cosa, il modello di Italia di Renzi, quello che lui chiama rinnovamento, è rappresentato da questo decreto che lui chiama sblocca Italia, noi chiamiamo sfascia Italia, ha sbloccato le trivellazioni tra Ischia e Capri. Noi siamo dell'idea che non vai a fare una piattaforma petrolifera nel Golfo di Napoli, in una delle zone più belle del mondo, ma prendi per esempio l'energia del vulcano che c'è sotto, perché è una delle bocche vulcaniche più potenti al mondo, e dai calore e energia a tutta la provincia di Napoli. In questo momento abbiamo questo modello d'Italia, noi ne abbiamo un altro. Renzi ha un modello d'Italia che si fonda sugli ultimi 30 anni di speculazione. Dunque nessun dialogo con Renzi, come quello che si era visto? Io sono uno di quelli che è andato al tavolo con Renzi due volte, gli ha detto mettiamo insieme i voti e diamo le preferenze nella legge elettorale agli italiani, così magari evitiamo di ritrovarci dei nominati della politica in Parlamento. Lui mi ha risposto organizzando un incontro segreto con Berlusconi e blindando il patto del Nazareno. Quello è stato, dopo le europee, la risposta che abbiamo voluto dare ai cittadini italiani, vi dimostriamo che noi vogliamo dialogare, ma sono loro che ci dicono no. A proposito di nominati, anche voi qualche problema ce l'avete? Le candidature per le regionali, soprattutto in Emilia Romagna, in Calabria, dove si voterà? Ci sono tanti parenti di, amici di, la compagna del capogruppo dell'Emilia Romagna, il fratello della deputata Nesci in Calabria. Insomma c'è un problema di trasparenza anche da voi che invece ne fate grande vanto. C'è un fatto. Noi siamo nati quattro anni fa in dei comitati di quartiere, dove io, mio cugino, mia sorella, partecipavamo, ci adoperavamo per pulire le aiuole, per sistemare, per aiutare gli commercianti. È chiaro che poi nella nostra storia ognuno si candida, ma è sempre la rete a decidere, non noi, chi entra in lista e chi no. Però è come se lei candidasse la sua fidanzata, insomma. Non credo che sia disponibile, assolutamente. Ah beh, però, insomma è quello che sta succedendo perché evidentemente anche non c'è trasparenza su chi vota, quanti sono i voti. No, non sono persone che sono apparse a tre mesi dalle elezioni, sono persone che lavorano sul territorio, per il loro territorio da mesi, sono due casi, tre casi. E questi due, tre casi passano per una votazione che è certificata da un ente esterno e garantita. Però lei la ritiene opportuna? Ma nel momento in cui noi qui abbiamo Azzurra Cancelleri, che è la sorella di Giancarlo Cancelleri, sono entrambi validi e entrambi hanno dimostrato di conoscere la Sicilia perfettamente perché lavoravano sul territorio insieme da 4-5 anni. Rimaio, finalmente sono stati decisi dei tetti agli stipendi di Camera e Senato, che però voi state contestando. Perché ce l'avete tanto con la Boldrini e con Grasso? Non è una questione personale, è semplicemente il fatto che se si dice che c'è un tetto massimo a 240 mila euro all'anno, poi non è che si dice 240 mila euro più i contributi, più le indennità ancora da definire. Il rischio è che gli si aumenti lo stipendio invece di abbassarlo. Senta, vi preparate a questo nuovo raduno con Beppe Grillo, che ha fatto anche il suo show con la Biga al Circo Massimo? Una tre giorni, che cos'è? Una richiamata alle armi, un modo per contarsi, anche visto che per esempio Federico Pezzarotti, sindaco di Parma, ha detto che con Grillo non si parla più di programmi, ora abbiamo gli uomini e non abbiamo i programmi. Ma prima di tutto io invito Federico al Circo Massimo, così potrà vedere anche lui tutto quello che abbiamo fatto e quello che stiamo costruendo per l'Italia. Il Circo Massimo non sarà una chiamata alle armi, ma sarà una chiamata ai fatti. Tutto quello che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni sarà documentato ai cittadini italiani, l'Italia che abbiamo già costruito. Io 5 anni fa da cittadino immaginavo un'Italia in cui le ditte che delocalizzavano, le aziende che delocalizzavano e prendevano i soldi dallo Stato dovevano prima restituire i soldi, oggi quest'Italia esiste perché è stata approvata una legge del Movimento 5 Stelle che dice questo. Chiunque voglia venire a conoscere il nostro programma e quello che abbiamo fatto è invitato al Circo Massimo dal 10 al 12.